Una applicazione che può essere utilizzata per pedinare e tentare l'omicidio di un presidente, quello francese o quello americano, che è stata utilizzata per stanare e uccidere un generale russo e che può addirittura darvi indicazioni rispetto a dove sono le basi segrete americane. Stiamo parlando dell'ultima app di Spioni, qualcosa del nuovo fascicolo, di un nuovo dossier, no? Stiamo parlando di Strava, per quanto strana che serva, l'applicazione di Jogging, sì, l'applicazione di Sport e ne parliamo oggi perché ce n'è da parlarne. Io sono Matteo Flora e questo, beh, questo è Ciao Internet. Ciao Internet. Le Monde si lancia nell'ultima di una serie di ricerche che hanno a che fare l'applicazione di Jogging, di attività in generale. Io, se mi seguite, la uso per andare a camminare e per girare con la bicicletta e cioè Strava. Che cosa è Strava? È un'applicazione in cui io posso tranquillamente segnare i percorsi, eccetera, che faccio correndo. Nessun problema, normalmente, anzi, addirittura posso cancellare un piccolo pezzo all'inizio e alla fine della corsa o del giro in bicicletta o della camminata per tutelare di più la mia riservatezza. Ma Le Monde trova che cosa? Trova che si possono tracciare gli spostamenti di Macron, ma la stessa vale per Trump e altri leader, andando a seguire su Strava le bodyguard, le guardie del corpo delle singoli presidenti. Già, non è così difficile. Seguendo dove vanno a correre e quando vanno a correre le guardie del corpo, sapendo un minimo chi sono le guardie del corpo, sono riusciti a tracciare decine e decine di spostamenti anche dove, in teoria, non si sapeva nemmeno che ci fosse il presidente francese. Può sembrare assurdo, eppure la gente non impara. Non è infatti la prima volta che Strava viene utilizzato. L'ultima volta che l'abbiamo trovata all'interno delle news è stato quando, all'inizio del conflitto ucraino-russo, a luglio del 2023, si dice che proprio l'applicazione di jogging in tempo reale è stata utilizzata per uccidere un generale russo. C'è il nome, ma non so, Stanislav Rizky, con addirittura una dichiarazione su Twitter di un ministro o di qualcuno su X, su Twitter, che sembrava confermarlo. Ancora una volta, sapendo il suo account e se viene utilizzato, mi dà quasi in tempo reale la posizione in cui andare a cercarlo. E sì, anche quello è un grosso problema. Tra parentesi, nemmeno questa era la prima volta che una cosa del genere succedeva. Tu dici, Matteo, ma stai scherzando? Eh no. Le prime avvisaglie che abbiamo visto di questo problema, su una feature in teoria anonima che si chiamava Heatmap, cioè quella parte che ti fa vedere semplicemente le zone in cui le persone corrono di più, è del 2018. È infatti a gennaio del 2018 che una delle mappe viene liccata e fa vedere la presenza di questa mappa che voi vedete in mezzo all'Afghanistan. Ora, se in mezzo all'Afghanistan, in mezzo a steppe, sterpi, deserti, eccetera, trovi 15 criceti che corrono intorno a un posto isolato nel nulla, e secondo te, chi sarà mai aborigeno? Erano le basi americane con i militari americani che facevano jogging. È un problema di strava? No, non è un problema tecnicamente di strava. È un problema di sicurezza delle informazioni. Un problema di sicurezza delle informazioni che, come tutto il resto della sicurezza delle informazioni, se io voglio condividere non è un problema, ma se non voglio condividere, beh, diventa un problema. Ma soprattutto quando da quelle informazioni posso desumerne altre, da io che sono il tizio che non conosce nessuno, ma che sono la guardia del corpo di Macron, che mi sposto presumibilmente dove va Macron, e che quindi rivelo la posizione di Macron, della base, eccetera, eccetera, eccetera. Questo significa che non devo usare quelle applicazioni? Nì. Questo significa che in contesti critici, ma lo dice anche l'applicazione stessa, magari non vale la pena di registrarsi, perché la tua vita o quella della persona che stai difendendo, in genere, non sempre, però in genere potrebbe valere un filo in più di avere salvato un viaggio in più su Strava. Tra parentesi, potete anche salvarlo e non farlo vedere, quindi vi tenete le statistiche, ma non fate vedere e non pubblicate nel vostro feed dove state andando. Per il resto, seguitemi su Strava, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, che dobbiamo arrivare a 100.000, dai, il più in fretta possibile, e per il resto, come sempre, e anche questa volta, oggi siamo stati brevi, dai. Grazie mille per avermi ascoltato e... E state parati.